Ho fatto uno studio, caro Peppino. Mi sono visto come mai ad Amalfi si trovavano 20 famiglie ebrei. Infatti nel 161, Beniamino da Tolida riferisce che ad Amalfi c'erano oltre 20 famiglie ebrei. Attenzione, una famiglia ebraica era formata da 5 persone in media. Più aveva i galzoni, quindi c'erano 200-300 persone ebrei. Un convegno che fra le tante belle, anche se sconosciute, ha i più notizie storiche, è riuscito a mettere insieme i rappresentanti dei comuni di Maiori, Amalfi, Nocera e Pagano. Ed in più c'era la rappresentanza dell'Associazione Nazionale e Provinciale Venditori e Ambulanti. Visto che il professore Aniello Ascolese, anima e coordinatore del convegno, in collegamento con il comune di Pagani, ha dato notizie sulla nascita del commercio che dal 1300 ha collegato i paesi della costa con quelli della Valle del Sarno, che hanno diffuso le famose pezze pitturate e rese desiderate dalle donne già nel Medioevo, con tecniche naturali ma efficienti nel rendere le stoffe morbide e colorate. I pezzari paganesi, per lo più, ma anche, perché non dirlo, anche i nocerini ed altri, fiutarono la possibilità di poter sviluppare affari e si riedero alla commercializzazione delle pezze, da cui pezzari o più nobilmente commercianti o venditori di stoffe. Il convegno ha visto la partecipazione di amministratori, come dicevamo, di maiori, noceri imperiore, pagani, responsabili dell'Associazione Nazionale Venditori e Ambulanti, rappresentanti provinciali e nazionali, e tante le notizie esposte dal coordinatore del convegno, Aniello Ascolese. Notizie su strade, luoghi e chiese dei pagani. In ultima analisi, un buon lavoro che potrà servire in seguito anche a proporre agli istituti scolastici locali uno studio ed una serie di ricerche sulla storia di Pagani, Nocera, dei luoghi storici che hanno fatto la storia dell'agro nocerino e dell'importanza che ha avuto il fiume Sarno quale via di collegamento e comunicazione. Le conclusioni di questo convegno, certamente positivo, sono state lasciate all'assessore di Pagani Pietro Sessa e al sindaco della città, avvocato Lello De Presco, il quale si è augurato che queste ricerche non si fermino in questo punto, ma si vada avanti. Grazie. 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 Grazie.